Un caricabatterie unico compatibile con molti dispositivi diversi è quello che propone la Commissione europea per tutelare i consumatori alle prese con sistemi di alimentazione differenti, qualcosa gradito a tanti come Rodrigo Costa a Bruxelles. Lavoro in uno spazio di co-working quindi porto sempre con me la mia attrezzatura. Questa decisione ha anche dei vantaggi perché se ho un caricabatterie unico significa che non devo comprare mille caricabatterie diversi per ogni dispositivo. Secondo le nuove proposte della Commissione le prese di ricarica saranno rese universali per smartphone, tablet, cuffie e fotocamere. L'idea è quella di aiutare a ridurre la crescente montagna mondiale di rifiuti elettronici. È positivo anche per l'ambiente perché tutti noi abbiamo tanti caricabatterie a casa che non usiamo. Ora ne avremo si spera solo uno e ovviamente si risparmierà molto, non solo in termini di rifiuti, ma ridurremo anche le emissioni di CO2. Ma non tutti sono d'accordo. Le critiche arrivano per esempio da Apple. Il colosso del settore sarebbe costretto ad avere gli stessi caricabatterie dei suoi rivali. Apple ha dichiarato a Euronews che la proposta soffoca l'innovazione. Ma l'ANEC, l'Organizzazione Europea dei Consumatori sulla standardizzazione, afferma che sarà meglio per tutti. Se tutto va bene, il progetto potrebbe essere implementato entro il 2024. I rifiuti elettronici sono il genere di rifiuti in più rapida crescita nell'Unione Europea. Meno del 40% di essi è riciclato.